Ciao ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Batman The Dutters, il quarto episodio Credo che oggi arriveremo al finale perché generalmente durano un'oretta e siamo abbondantemente quasi vicino Allora, quindi penso che questo sia il finale del quarto episodio Sperando che poi arrivi successivamente al più presto anche la traduzione del quinto episodio Naturalmente come al saluto il video, come stiamo a mettere il mi piace, poi c'è il zoom, un bel commento, un bel mi piace Naturalmente sempre per il primo episodio, il secondo episodio, il terzo episodio, il quarto episodio Trovate tutte le box info nell'info, i box informazioni, anche per ciò che riguarda la traduzione soltanto per PC Detto questo continuiamo la storia, vai! Eh più o meno! Sebbene abbastanza combinato male, eh, Dio Beh, credo che vorrei chutarmi miei piaciuti, allora Ah, è difficile, pensavo che questa situazione di Wayne fosse un po' di te sotto, Batman Eh, infatti tutto che Bruce ha fatto, perché dovrei fare qualcosa per lui? Non lo so, potremmo essere... Vedete quanto è morto Gotham davvero è Per salvare Gotham Ho bisogno di fare qualcosa di male Prima che si rende meglio Oh, è seguito il corto Ahia Eh, non sapevo che l'abbia fatta Ah, è stata messo male, ragazza Ok Eh, mi sa che ce ne dobbiamo andare Se ci fa scena di buttarlo giù lo butto giù Dai No, non ce la fa fare Ma porca Che bella mina che avete, ragazzi Ah, io devo beccare quella moneta Ok Sperando che Oh Ah Intanto mi distrago Eh, tipo Stai calmo La gente si è scena Sì 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 E io ero quasi una di loro In caso di non poterete Oh. Niente sia. Ebbè... Mi sa che dobbiamo fermarlo. Che c'è? Abbiamo un po' di lavoro da fare. Tutto è una messa. Ma... Dobbiamo iniziare a dove. Secondo me dovremmo... Prima iniziare a fermare... E di Arkham. Ma che alito che hai. Ora è contento. Prima fa tanto tanto lo sprucci... Ma che macchina che c'è... Lucius, qual è la situazione? C'è un po' di lavoro. C'è un po' di lavoro. È un po' di lavoro. È un po' di lavoro. Un po' di lavoro. È un po' di lavoro. È un po' di lavoro. È un po' di lavoro. Un po' di lavoro. Non ti preoccupare. Che gioco arrivo, Alfred? Ah, ok. Qua devo stare attento, eh. Ok. Sigario. Un po' di lavoro. Un po' di lavoro. Ok. Mi sa che dobbiamo unirlo. Con la pistola di Alfred. Parla? No. Aspetta che non c'è... Ah. E che palle. Cioè? Ah, ok. Faremo giusto un po' di rumore, però, eh. Ammazza. Nel ginocchio. Ciao, ragazzi. E che c'è? 3000 kg, quella boss. Il tempo per parlare è stato finito. E così è il tuo regno di terrore. Quindi, come sta finito? Dio sono venute per questo? Sudi voglio rilasciare questa casa. E tu vuoi me impedire. Non mi sembra che questo sarà meglio per noi. Di tutti. Economy. Di te che soppiterò. Guarda la mia, Batman. Sai dir uno peggio di un po' di dolore. Non. Che c'è in quella burn? Attenzione A volte mi distra... Ok, penso di averlo fatto, beh, ammazza C'è una pistoletta Aspetta, dove mi devo agganciare, dove mi devo agganciare, ah, là, aspetta Eh, scusami, ho fatto tag, uh, stai sparando qui, basta, siamo morti Facci riprendere che cosa ce la facciamo, ok Perfetto Salvi Quasi Vai Ancora Dai, lanciagli una bomba a mano Ecco Quella Questo tuffo è galattico Aia Ci ha preso, eh No The Bat's mine Ah, meglio da che muore Batman Usa tua head, Harvey Mio Mio Non ci rende mai un herò Ah, ma Alfred è uno tosto, eh E ti pareva, non c'hai... Vabbè, ma sei proprio un furbacchione Oh, bello Possiamo interagire Vai Aspetta Ok Aspetta Ok Pipistrelli, pipistrelli Abbiamo usato la carta pipistrelli Vai E vai Tanto ormai, braccio, faccia, stiamo là Non è che ce la possiamo anche fare Vai Vai Vaglia Avete un po' spacciato Batman in questo episodio, eh Ok Forse ci riprendiamo Eh, la devi fumare, te l'ho detto No, no Eh Noi siamo i salvatori Ma che sei importante? Eh, ma ho gra... Molto bella l'uja Io ancora bisogno di trovare Lady Arkham prima di là È più legato Ma io posso occupare tutto questo Chiedo di controllare cosa fare con lui Ti ho dato un fazzoletto a Batman No, questo lo buttiamo ad Arkham Non lo posso vedere con il sangue al naso Guarda lì Dai, è sangue, penso sia sangue O se hai fatto il tatuaggio... No, penso sia sangue Anche... no, ma secondo me è perfetto No, e che facciamo? Ah, porcavo Vabbè, potevamo staccare la spina Tipo, per forza... Questo effetto... Cioè, che ci lasci così finisce Porca miseria Lo sapevo che il quarto episodio sarebbe finito così Chissà se il quinto episodio si muoverà tutto intorno al Joker Ma... non lo so Comunque ragazzi, naturalmente vi invito come stanno a mettere un bel posto su Un bel commento, un bel mi piace Vi ricordo sempre Traduzione nel box info Per gli altri episodi Tutti quanti ve li trovate sempre nel box info In pratica nel box info trovate tutto di possibili Informazioni, traduzione Vi ricordo solo e soltanto per PC Detto questo, spero che vi passavamo da questo video Se non vi lasciate sempre di commentare se ti piace No, ci vediamo al prossimo video e bye bye